Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. All'Indoor Sabi 2020 il primo finalista Dubov sta aspettando di conoscere il nome del suo avversario, il vincitore della semifinale tra Magnus Karzen e Ikaru Nakamura. Karzen ha vinto il primo mini match 3 a 0 e quindi Nakamura deve vincere a tutti i costi per portare la sfida alla terza giornata. Nel video di oggi quindi la partita decisiva del secondo mini match. Partiamo! Ikaru Nakamura con i pezzi bianchi apre la partita con E4 e Magnus Karzen risponde con E5. Cavallo in F3, cavallo in C6, alfiere in B5, siamo nella Rui López. Cavallo in F6 che attacca subito il pedone centrale nella difesa berdinese. Nakamura risponde proteggendo il pedone con D3 e qui arriva alfiere in C5. Alfiere cattura in C6, ora noi sappiamo che il bianco ha rimosso il difensore del pedone E5, però ricatturando con il pedone D, ormai siamo abituati a vedere questo setup, sappiamo che in questa posizione il bianco non può catturare il pedone perché praticamente arriva donna in D4 che minaccia a matto in 1 e vincerà il cavallo. Quindi dopo D cattura in C6, Nakamura a rocca corto con il re che al sicuro veramente il nero dovrebbe proteggere il pedone E5. Infatti la mossa più giocata è il salto all'indietro del cavallo, cavallo in D7. Invece Karzen protegge il pedone inchiodando il cavallo con l'alfiere in G4, ma adesso che fare dopo H3? Perché se l'alfiere si sposta indietro in H5, arriva a G4 e praticamente interrompe l'inchiodatura del cavallo che vincerà il pedone, quindi forse forse in questa posizione converrebbe cambiare l'alfiere sul cavallo, ma Karzen non lo farà, torna indietro con l'alfiere in H5 e qui arriva G4. Adesso se l'alfiere si sposta in G6 il pedone centrale è perduto, ma quindi cosa ha in mente Karzen? Karzen ha in mente di sacrificare un pezzo. Cavallo cattura in G4, il pedone H ricattura, l'alfiere ricattura e di nuovo il cavallo inchiodato. Incredibile, ma per il computer questa idea è giocabile, anche se il bianco sta meglio, ho soltanto 5 partite in database tra giocatori titolati, 2 vittorie per il bianco e 3 pareggi. Quindi cosa fare adesso? Nakamura, che ha un pezzo di vantaggio, gioca la mossa migliore al ferine 3, che sviluppa, ecco l'idea di cambiare più pezzi possibile per poi andare a vincere il finale e quindi per ridurre la forza dell'attacco del nero. E naturalmente Karzen non vuole farsi cambiare gli attaccanti, quindi l'alfiere torna indietro in E7. Questa è una novità, perché l'alfiere in D6 era stata giocata prima. Con l'alfiere in D6 ci sono due importanti partite da studiare, se vi piace questa linea. Wei Yi e Peter Leco, un altro grande attaccante, tutti e due con i pezzi bianchi che non sono riusciti a vincere la partita e queste partite sono due pareggi. Quindi il sacrificio del pezzo in G4 non è uno scherzo. Questo è un importante momento della partita, perché cosa giocare adesso per il bianco? Immaginiamo come potrebbe svilupparsi l'attacco del nero. Ora, con la colonna H semiaperta e con il re così scoperto, sembra credibile il fatto che il nero voglia arroccare lungo e che oltretutto ci possa essere questa spinta F5. Quindi una probabile idea è donna C8 e la spinta F5. E perché no donna D7 che libera direttamente l'arrocco? Che donna D7 praticamente sarebbe un errore che perde la partita di botto? Perché praticamente libera il cavallo dall'inchiodatura e il cavallo può rompere l'inchiodatura? Sì, certo, la donna è persa, ma tanto il cavallo ha vinto un pedone e riguadagnerà la donna in D7. Quindi per questo motivo l'arrocco lungo deve aspettare ancora un po'. Quindi abbiamo detto cosa fare? E qui bisogna in qualche modo liberare la torre perché il bianco deve iniziare a controllare in qualche maniera queste case importanti sul lato di re e infatti qui arriva re in H1. Purtroppo però re in H1 non è l'idea migliore. Ritorniamo indietro della mossa perché re in G2 sembra molto migliore. Adesso dopo donna in C8 sia torre in G1 che torre in H1 sono entrambe continuazioni valide e il re oltretutto si può riportare indietro in F1. Ma ritorniamo alla nostra partita che Nakamura ha continuato con re in H1 e qui arriva F5 direttamente. Quindi giocata da Karsen senza prima averla preparata con donna in C8. E siamo arrivati anche al nostro quizzone. Perché la domanda per voi è la seguente. Valutate se E cattura in F5 è buona o no per il bianco. Quindi mettete pure in pausa se volete. Ritornando alla nostra partita purtroppo il bianco non può catturare. Per questo motivo Karsen ha giocato velocemente questa F5. Andiamo a vedere che succede dopo E per F5. Dopo E per F5 non giocata da Nakamura arriva E4. Quindi questa spinta libera. In qualche maniera il pedone sta attaccando il pezzo inchiodato. Quindi qui si minaccia di vincere il pezzo. Il bianco deve catturare D per E4 ma il nero gli cambia le donne. D cattura, scusate, donna cattura la donna in D1. La torre ricattura. Brutta geometria perché adesso alfiere cattura in F3 è scacco e forchetta. E quindi naturalmente la partita il bianco perde la qualità e è già game over. Ritorniamo a noi. Infatti dopo F5 giustamente Nakamura non cattura. E cosa gioca? Gioco ha una mossa interessante. Torre in G1. Adesso veramente il bianco minaccia di catturare. Perché se dopo il nero ricattura di alfiere casca G7 e se no ci potrebbe anche stare in qualche maniera il sacrificio della torre sull'alfiere. Quindi per questo motivo arriva H5 che previene sia questa cattura e sia anche il sacrificio di qualità torre per alfiere perché il pedone ricatturando apre lo scacco di scoperta e quindi vincerà anche il cavallo. Quindi adesso arriva il cavallo in C3. C'era forse ancora tempo per riportare il re indietro con re in G2 e re in F1. arriva anche F4 quindi l'alfiere sotto attacco. L'alfiere in D2 e adesso arriva G5. Il nero sta meglio e Karzen con questa strana linea di apertura ha tirato fuori dal cilindro un attacco pericolosissimo. Nakamura deve inventarsi qualcosa e strategicamente tira fuori una bellissima idea. Cavallo indietro in B1 e qual è l'idea? L'idea è quella di portare questo alfiere campo scuro su una diagonale fortissima e intanto di ricollocare il cavallo in D2. Ottima idea però Karzen ha tanti buoni modi di contrastarla. Giocherà alfiere in C5 che non è la mossa più precisa ma che mantiene il vantaggio ma ritorniamo indietro di una mossa e vediamo quali erano le continuazioni migliori. La mossa tranquilla donna in D6 che protegge quindi che permetterà questo alfiere in C3 ma che protegge il pedone centrale e permette subito l'arrocco lungo e una buonissima continuazione per il nero? Ritorniamo indietro della mossa perché il computer ne vede un'altra. Secondo lui alfiere cattura in F3 con scacco è la più forte in assoluto. Più forte in assoluto perché naturalmente la donna deve ricatturare, arriva G4 con tempo, scusate la donna si deve riportare indietro in G2, è già meno 3 perché adesso di nuovo c'è donna in D6, c'è stato un ulteriore guadagno di spazio in questo attacco, il nero arroccherà lungo e praticamente con un attacco fortissimo. Ritorniamo a noi, Carlsen invece ha giocato alfiere in C5, qui secondo i piani arriva alfiere in C3, alfiere cattura in F2 e c'è la torre sotto attacco. Ora giocare torre in G2 non risolve niente per il bianco, andiamo a vedere che dopo torre in G2 l'alfiere semplicemente ritorna in D4, alfiere per alfiere, qui arriva subito l'alfiere sul cavallo in F3, la donna è costretta a catturare G4 con tempo, la donna torna indietro, la donna del nero cattura e libera con tempo l'arrocco lungo, praticamente questa torre è mal posizionata, diventerà addirittura un bersaglio accelerando l'attacco e quindi la vittoria del nero. Ritorniamo a noi, quindi con la torre sotto attacco Nakamura giustamente non sposta la torre e continua con l'idea precedente, cavallo in D2. Il cavallo adesso sta proteggendo il cavallo in F3, donna in E7 perché Carzen vuole a questo punto accelerare con l'arrocco lungo e quindi con la donna che in qualche modo protegge il pedone centrale, però ricordiamoci che qui il cavallo è sempre inchiodato, adesso però con il cavallo che è protetto la donna del bianco si sposta, donna in F1 attacca pure l'alfiere. Quindi alfiere per torre in G1, la donna ricattura e attenzione perché praticamente qui c'è l'idea di catturare con il cavallo in E5 e giocare poi una scoperta e vincere la torre piena. Per questo motivo Carzen rimuove il cavallo, alfiere per cavallo, ma c'è un'altra cattura di cavallo e quindi sulla scacchiera si ripropone la stessa idea. Quindi che giocare adesso per il nero? Ci sono diverse buone possibilità, la tranquilla torre in G8 sembra quasi quasi una delle continuazioni migliori. Andiamo un po' a vedere che succede. Dopo torre in G8 che quindi va a proteggere il pedone e che qui non bisogna perdere questa connessione tra pedoni che sono fortissimi avanzando tutti i connessi, certo si perde E5 ma intanto abbiamo anche rimosso la torre dalla pericolosissima diagonale scura. Adesso il cavallo catturerà in E5, donna in E6 c'è anche il problema dell'invasione con lo scacco in nero a rocca lungo e comunque c'è un piccolo ancora vantaggio. Ritorniamo quindi alla nostra partita perché dopo che Nakamura ha ricatturato col cavallo in F3 e qui naturalmente un po' di materiale si perde, quindi abbiamo visto che Nakamura dando via questa torre si è difeso bene. Carzen non giocherà torre in G8 che comunque mantiene un piccolo vantaggio ma giocherà G4. G4 quindi l'espansione continua qui sul lato di re, cavallo sotto attacco, questa mossa è buona lo stesso, naturalmente il cavallo catturerà in E5. Ora qui c'è di tutto quando il cavallo si esposta, quindi la cosa da fare è praticamente giocare torre in G8 e naturalmente Karzen l'ha giocata. Torre in F1, pedone sotto attacco. Ora attenzione perché il nero non può avanzare e portare il pedone sotto la protezione del pedone G4 perché vedete che c'è la torre inchiodata quindi il bianco può catturare di cavallo, il nero non può riprendere perché perde la torre con scacco, perde proprio la partita e quindi arriva donna in G5. Donna in G5 protegge la torre, diventa una batteria e protegge anche il pedone in G4. Donna in D4 che minaccia praticamente un matto, quindi Nakamura cerca di trovare un controgioco al centro perché il re è sempre al centro e non può più arroccare con la donna sulla codonna D. Karzen però ha in mano due buone continuazioni. Donna in H4 con scacco che in partita lui ha giocato, ritorniamo indietro di una mossa perché bisogna valutare anche torre in D8. Torre in D8 è forse la continuazione più forte, non giocata da Karzen e adesso dove portare questa donna? Donna cattura in A7 è una continuazione brutta, andiamo a vedere che succede, è proprio dalla peggiore perché adesso c'è l'invasione con scacco, donna in H4 con scacco, re in G1 è la stessa cosa perché la donna si sposta in G3 con scacco, quindi il re deve ritornare in H1, di nuovo donna in H3 con scacco ma abbiamo guadagnato un tempo, re in G1 arriva a F3 a minacciare il matto in 1 in G2, quindi la torre deve proteggere la casa G2, ma qui arriva anche G3 e praticamente il bianco può abbandonare perché dopo torre cattura in F3 la donna dà a scacco, il re si sposta, il pedone avanza con scacco, il nero promuove e il bianco perde la partita. Ritorniamo alla nostra torre in D8, anche dopo donna in F2 che è una delle due migliori continuazioni per il bianco non c'è più questo scacco in H4, però c'è che il pedone adesso può tranquillamente avanzare perché la donna non è più sulla torre è pure coperta, quindi arriva F3, G3 sta arrivando, il re si sposterà in G1, arriva H4, cavallo indietro in C4, torre in F8, è tutto coperto, il pedone vuole continuare ad avanzare, quindi per questo motivo viene giocata torre in F8 per continuare a proteggere il pedone F3 perché il pedone in G4 vuole avanzare con tempo, se al fiere in D2 la donna si sposta in H5, sinceramente, questo attacco sembra inarrestabile. Torniamo per l'ultima volta, ve lo prometto, a torre in D8, perché l'altra possibilità praticamente è quella di giocare donna in C4. Donna in C4 bisogna stare attenti perché vedete che sta guardando non soltanto la torre, perché qui naturalmente il nero vorrà invadere di donna lasciando la protezione della torre, ma qui la donna sta guardando un'altra casa pericolosissima perché donna in E6 è scacco matto, è quasi scacco matto in questa posizione. Quindi dopo donna in C4 bisogna stare attenti, ma l'attacco continua perché c'è donna in H4 con scacco, il re si sposta in G1, di nuovo donna in G3 con scacco, re in H1, donna in H3 con scacco, re in G1, attenzione perché stavolta qui di nuovo con donna in E6 si arriva al matto e oltretutto c'è sempre la torre sotto attacco, quindi in questa posizione il nero, credo probabilmente Karsen l'avrebbe trovata, deve trovare la forte interferenza, torre in G5 naturalmente che chiude la diagonale alla donna e non può più raggiungere E6, non può più attaccare la torre, naturalmente essendo la torre protetta dal pedone non si può catturare donna, bisogna catturare di pedone e quindi il bianco ha tempo di giocare F3 con la minaccia di matto, torre in F2 a controllare G2 ma c'è anche il tempo di giocare G3 ed il nero vince la partita. Ritorniamo quindi alla partita vera e propria perché dopo donna in D4 giocata da Nakamura nel disperato tentativo di trovare un controgioco contro il re nero, Karsen non può arroccare ma può giocare la fortissima torre in D8, invece continua con la buona donna in H4 con scacco, il re di Nakamura si sposta in G1, donna in G3 con scacco, re in H1, qui bisogna giocare a tutti i costi, torre in D8 attaccando la donna, questa è l'unica mossa buona ed è l'ultima chance per Karsen che invece giocherà donna in H3 con scacco e qui praticamente iniziano grandissimi problemi per lui, che re in G1, arriva G3 che minaccia il matto di donna in H1, ma Nakamura saltando all'indietro col cavallo protegge la casa H2 G2 attacca la torre con l'attacco di scoperta sul cavallo, la torre si sposta, Karsen vince il cavallo ma l'attacco finisce qui e Nakamura ha in mano la partita, donna in E5 con scacco, il re si sposta in D8, donna in F6 con scacco, re in E8, alfiere in B4 minaccia il matto in 1, quindi arriva C5, alfiere cattura in C5, il re si sposta in D7, donna in F7 con scacco e Karsen abbandona perché il matto è già forzato, naturalmente se il re si sposta all'indietro c'è la cattura con scacco, quindi andiamo a vedere il matto più probabile, re in C6 attacca l'alfiere, ma la donna spostandosi in D5 protegge da scacco, re in B5 arriva A4 con scacco, praticamente vuole aprire la colonna A perché se il re cattura il pedone, c'è donna in B3 con scacco e vedete che il re può soltanto indietreggiare sulla colonna A, ma allora torre in A1 diventa matto perché la donna gli controlla la colonna B, quindi il re si sposta in A5, alfiere in B6 con scacco, se il re cattura o un pedone cattura donna in B5 scacco matto, il re è costretto ad aprire la colonna A, re cattura in A4 ma donna in B3 non ha neanche bisogno della torre, è direttamente scacco matto. Le altre tre partite del secondo mini match di semifinale finiranno tutto in parità e quindi Nakamura con questa partita è riuscito a portare la semifinale al terzo ed ultimo giorno. Dubov deve quindi aspettare ancora un po', ma credo che un giorno di riposo in più non potrà certo fargli male, quindi sarà altro che contento. Spero che anche questa partita vi sia piaciuta, che vi iscriverete al canale numerosi, domani ci sarà naturalmente l'ultima partita di semifinale tra Karza e Nakamura e poi la finalissima con il vincente contro Dubov. Dal lunedì mattina invece inizieremo a seguire quasi in diretta lo Skilling Open, primo torneo della seconda stagione del Karza and Chess Tour che parte domenica pomeriggio alle ore 16. Grazie tante per l'ascolto e ci vediamo domani. A presto! Grazie a tutti!